Non c'è più nessuno alla porta. Va bene, chiamo Michele Finelli, sono socio di un'azienda che si chiama Biodec, ci occupiamo di ultimamente molte attività su la gestione e la manutenzione di infrastrutture IT, siamo nate come azienda di bioinformatica, ma facciamo anche altre cose. Grazie di essere venuti qua ad ascoltare questa presentazione. Talk sarà su un argomento relativamente nuovo, nel senso che il movimento DevOps ha qualche anno di vita e vi voglio presentare un po' la storia del movimento e alcune cose per come le ho capite io e per come secondo me possono essere applicate, diciamo, nelle aziende, soprattutto nelle aziende che vorrebbero avere modi un po' più moderni di fare alcune cose. Quali cose adesso lo vediamo nel dettaglio. Allora, questo è un po' la scaletta della presentazione. Per prima cosa partiamo da quella cosa chiamata cloud. Da un po' di anni ormai l'avvento delle tecnologie di virtualizzazione e successivamente, questi hanno permesso, l'avvento di tecnologie di cloud, ha portato ad avere la disponibilità di grandi quantità di, inizialmente server, poi servizi, piattaforme di varia natura, a costi molto bassi, una frazione letteralmente di quelli che potevano essere i costi che si immaginavano anche solo 5-10 anni fa per avere un'analoga infrastruttura, partendo dal vil metallo e andando in su. Qual è, secondo me, il nocciolo del fatto di avere nella propria azienda l'infrastruttura IT basata su cloud e virtualizzazione? Il fatto che abbiamo delle nuove complessità, che sono delle complessità che derivano dal fatto che la nostra infrastruttura è un'infrastruttura distribuita. E attenzione, ormai queste tecnologie sono più che mature, stramature, completamente assodate appunto, anche in termini di costo, ormai la concorrenza è tale per cui tra Amazon, Google e Annessi avere certi sistemi, veramente, a volte ci si chiede come possano andare avanti con prezzi così bassi, così limitati. Cosa succede se noi non abbiamo gli strumenti che ci permettono di gestire questa infrastruttura distribuita, questa infrastruttura così diversa dall'infrastruttura che poteva avere dieci anni fa in un, chiamiamolo ancora col suo termine vecchio, in un CED, un'azienda, no? Brando sorride la parola CED. Beh, niente, o se non hai gli strumenti adatti non la controlli nel modo adeguato, oppure, per paura della novità, non sfrutti adeguatamente tutte quelle potenzialità lì. Una brevissima parentesi. Chi di voi utilizza, normalmente in azienda, come libero professionista, nella sua parola quotidiana, tecnologie di virtualizzazione? E qua prendo dentro tutto la telebaraccia da Xen, KVM, quell'altro, Vagrant, eccetera, doc, eccetera. Tenete un attimo sulle mani, per cortesia, perché mi serve un test. Allora, di questi qua, tengono sulle mani anche coloro che hanno una parte della loro infrastruttura su cloud. Infrastruttura su cloud vuol dire che se il vostro server va giù, un lettero, una mail, o chi dice, il sito non risponde, c'è un problema e quant'altro. Ok, alcune mani sono rimaste su, ma decisamente di meno. Eh? Ci torniamo dopo, ci torniamo dopo. C'è qualcuno che per caso avrebbe alzato la mano soltanto in questo secondo scenario e non usa assolutamente soluzioni di virtualizzazione? Cioè ha solo e soltanto tutto su cloud? Ok. Comunque ci sono alcune persone che le mani, per sbagliate ragioni, e dopo ci torniamo sopra, non le hanno alzate. Qual è un altro punto? Per erogare servizi, sia più innovativi, competitivi e quant'altro, la vostra infrastruttura non sarà soltanto distribuita, ma sarà sempre più grande, in termini di, se vogliamo unità di misura banale, proprio il numero di server, il numero di oggetti che stanno su cloud. E quando aumenta la dimensione, e questa è una cosa che ha toccato anche Steve nel talk di prima, quando ti cambi il contesto, pensare con la soluzione di prima nel contesto diverso, non va bene, devi cambiare il tuo mindset. Adattare nel large infrastructure, large data, anche tutti i termini che vanno di moda, quello che si fa, si faceva nel piccolo, ipotizzando che è soltanto un fattore di scala, non è una buona strategia, perché purtroppo non funziona. Chiudiamo la premessa sul cloud e iniziamo a parlare di DevOps. Faccio una breve presentazione di come si è arrivati a questo movimento, che ho preso da una presentazione, che ho trovato in rete, di persone che hanno partecipato di queste iniziative fin dai primi momenti. Si fa partire da un soggetto che si chiama Patrick Debois, che è poi quello che ha lanciato i DevOps Days, che è questa linea di conferenze, che è ormai da tanti anni che si svolge un po' in tutto il mondo. Nel 2007 lui si trova a svolgere un lavoro che magari molti di noi hanno svolto nel 2007, o addirittura anche prima, insomma, in cui faceva un'attività ibride, un po' da programmatore, un po' da amministratore di sistema, con tutti i limiti e i problemi del caso, che ti senti né carne né pesce, prendi sempre il peggio da entrare in belle parti, perché tu sei sistemista tra i programmatori, ma in mezzo ai sistemisti tu sei quello un po' particolare, per cui non è chiaro che cosa stai facendo. E già nel 2008 un altro soggetto che si chiama Andrew Schaefer racconta di aver proposto durante gli open space fare una sessione su, è già l'infrastraccio, siamo già nel 2008, già il manifesto è di dieci anni prima, una conferenza abbastanza grandina, internazionale, insomma, è già l'infrastraccio, magari un tema che può interessare, come si trova un pirlo davanti alla flip chart, non arriva nessuno, proprio un tema centrale. Il primo talk, presentazione, la trovate su YouTube senza problemi, dalla quale si fa partire anche proprio l'idea di usare questo termine DevOps, è il talk che dà John Osborne, che racconta, noi in Flickr, riusciamo a deployare in produzione, non una volta ogni tot mese, non tutti i giorni, ma più volte al giorno, dieci più deploy al giorno, in cooperazione tra DevOps. Il 30 e il 31 ottobre 2009, quest'anno ci sarà il DevOps Days del quinquennale, a Ghent viene fatta la prima edizione di questa conferenza, che poi diventa un po' il motore degli incontri di questa comunità. Hashtag DevOps è quello su quale trovate annunci, chiacchiere e quant'altro, su Twitter, eccetera. Una cosa interessante è che, non è che viene definito in termini precisi, cosa si intende esattamente, cioè intuitivamente ha senso, anche perché appunto è la crasi di questi due termini, quindi development, operations, già un po' insomma dove andare a parlare, si capisce, però si iniziano a svolgere meeting, conferenze e quant'altro, liberamente, senza che ci sia l'equivalente, se vogliamo, di un agile manifesto con regole e principi ben definiti. La gente si trova, inizia a parlare, più di 50 eventi fatti in 5 anni, migliaia di persone, di cosa parlano le persone a questi eventi, a queste iniziative? parlano di fare gestione delle infrastrutture, gestione dell'IT moderna, parlano di tecniche, strumenti per gestire infrastrutture grandi, quindi si trovano le persone che stanno in Amazon, Twitter, Spotify, Github, eccetera, dove i server li contano a migliaia. Chiaro, è uno scenario diverso da quello di un'azienda tradizionale, ma, attenzione, forse in prospettiva futura non puoi così incredibilmente distante. Parlano di come provare a dare valore alle aziende in modo tramite la messa in produzione di codice in tempi sempre più celeri, in modo sempre migliore. Si tenta di capire quali possono essere le strategie per superare il gap, la distanza che c'è tra il mondo di chi fa sviluppo software e le operation. Se qualcuno tra gli agilisti di antica data che ha la frase, vediamo se riesco a far andare il picaglino, bridging the gap between developers and operations, magari se invece che bridging the gap dico healing the divide, gli torna qualche cosa. Nel 2001, dice, Bon Martin, ci siamo trovati, abbiamo pensato un po', abbiamo deciso il nome Gile, il nome Gile ha quattro principi, ma il prime goal, così dice Kent Beck, è to heal the divide between business and development. 13 anni fa. Poi, non vi sto a tediare, il movimento è già il di questi anni, cosa ha portato, cosa ha portato, eccetera. Io, personalmente, la vedo come una conseguenza di queste idee. Oggi, insomma, 2011, è già passato, iniziano ad esserci anche pubblicazioni, se vogliamo, formali, quelle che vengono lette da chi sta nei CED, da quelli fotografati sulle copertine di IT manager, dove tipicamente si tengono sempre inspiegabilmente il mento. Nel... A me non mi hanno mai fotografato, così sono un po' mi manca. Comunque, oh, Gartner dice questa roba qua, che parte come una cosa di nicchia, nel 2015, che se non ho portato male, da domani sono poi 80 giorni, e ad oggi, quindi non è tutta questa sfilata di tempo, verrà adottata in più di un quinto delle aziende che stanno in questa categoria, Global 2000, insomma, le 2000 aziende più grandi, immagino come fatturato, comunque, sono tra le più grandi come fatturato, anche come personale, eccetera, eccetera, eccetera. Va benissimo. In Italia, cosa è successo? In Italia, io ho partecipato nel 2012 a questa iniziativa, molto bella, fatta a Roma, con la collaborazione di Patrick Debois e un team locale, c'erano un troppo di persone, in questi 200 partecipanti, se non vado male, ricordando, mi sembra che 150, 160, forse, dal resto dell'Italia, locali, eravamo veramente pochi, da lì, parlando con le persone che ho incontrato giù, ho detto, beh, dai, non è che abbiamo bisogno che venga uno da Ghent per organizzarci una conferenza, siamo abbastanza capaci di fare anche da soli, ne ho fatto prima una cosa piccolina qua a Firenze, in piazza Nigoni, nella sede di Dada, che quell'anno lì, nel 2013, ci ha ospitato, l'anno scorso l'abbiamo fatta a Bologna, se ne più gente è venuta, a partecipare, adesso vediamo cosa si riesce a pensare per l'anno prossimo. ok, vabbè, diamo, tentiamo di dare una definizione di DevOps, a parte il fatto che appunto contiene questi due termini nella sua vera, nella sua, nella sua farase. Queste sono le mie idee molto personali, anche perché, appunto, non c'è un, non c'è un libro, non c'è un blog, non c'è un post, un talk, un keynote di qualcuno in cui viene detto DevOps è questo e quindi quest'altro non lo è. Ci sono varie idee, varie persone che, che la vedono in modo simile, ma a volte anche un po' diverso. Per me, è ancora un put to read, quindi è un qualcosa che mescola, uso volontariamente proprio il termine agile stuff, perché sono tante cose che vengono dal mondo dell'agile, idee e tecniche dalle metodologie lean, molte caratteristiche delle comunità, che hanno le comunità del software libero. Per chi di voi ha partecipato, certo prima, nei Latin in Talk, una presentazione bella di San Marchi come membro della comunità Ubuntu, insomma, per chi di voi, per passione, per lavoro e quant'altro, ha partecipato di comunità del free software, sa che ci sono alcune idee. Il fatto di condividere quello che si va a realizzare, di utilizzare, appunto, chiaramente, codice libero, standard aperti, eccetera. E altre cose, perché appunto, questa cosa sta un po' nella testa delle persone, a seconda da dove vengono, da qual è il background, ok? Da chi è molto, nell'ambito dell'operation, del management, dello sviluppo, e così via. Che cosa non è DevOps, è molto più facile da definire, perché DevOps non è una certificazione. Se qualcuno vi vende un corso dove c'è un titolo DevOps Master, DevOps Certified Trainer, senza nulla togliere a chi, merito a chi lo fa in altri ambiti, quella cosa lì è inventata. Non è un titolo che trovate in un biglietto da visita, sì, te lo puoi mettere, però non ha molto senso. Non è uno strumento, software in particolare, o una suite di software, di tecniche, di programmazione, di linguaggi, di librerie. No. Non è definito dal fatto di fare qualcosa di quel tipo lì. Ciò che va più vicino a una definizione di DevOps sta in un acronimo, che è CAMS, dalle iniziali di cultura, automazione, misura, misurazione, e S per sharing, cioè condivisione. Primo punto. Primo punto dice, per noi, il movimento DevOps deve avere come obiettivo quello di creare una cultura della collaborazione. Sapete tutti che gli aspetti culturali, organizzativi, sociali, fino anche politici, sono difficili da raggiungere. Non esistono soluzioni tecniche a problemi politici, a problemi sociali. Sarebbe bello, ma non funziona. John Willis, una delle persone che ha partecipato fin da subito, ai primi DevOps Days, molto ascritto su blog e altro, dice una cosa che potrebbe venire da qualunque talk fatto in un meeting agile. People and Process First. Se non avete una cultura di divisione, eccetera, 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 basarsi solo sul fatto di automatizzare, automatizzare tutto, quindi l'infrastruttura, la gestione, il monitoraggio, eccetera, non è una cosa che può durare del tempo. punto due però, passiamo da cose, se vogliamo, più tecniche, più concrete, un caposaldo dell'approccio DevOps è quello di automatizzare tutto. Tutto vuol dire che se avete una cosa che può essere svolta da del software, allora deve essere svolta lo si deploy e lo si esegua. come dice la Bibbia, tutto il software nasce uguale sotto al sole, tutto il software è uguale nel creato, non so in che libro ma lo dice sicuramente. Se è un programma è un programma di sistema, quindi un qualcosa che integra, cose che stanno su server e non è un'applicazione di frontend e non usa l'ultimissima libreria JavaScript inventata stanotte, non è un programma di serie B, è un programma che fa altre cose, un programma deve essere scritto in un certo modo. Non è che perché fa quelle cose lì diciamo di sistema in ambito operation tu quel codice lì non lo tieni versionato, non ce l'hai testato, non lo banalmente appunto gestisci e sviluppi come tutti gli altri. Ok? Corollario, amministratore di sistema, non è un insulto, non è una paragrafia e poi c'è una parola. E' brava, adesso ci arriviamo alla fine dei sistema, è brava, è brava, infatti qua nella barcaccia abbiamo una fronda che ha già capito dove andiamo a parare. Bene, bene, non ci scapperanno. Un corollario di automatizzare tutto è lo slogan Infrastructure as Code che è una conseguenza logica, dice allora se soltanto il software determina quello che tu puoi fare sulla tua infrastruttura allora vuol dire che non averlo non va bene, cioè ci sono delle attività che se le fai a mano, l'immagine degli Snowflake Servers è tratta da un blog post di Martin Fowler qualche mese dietro, no? Quindi server che sono tutti unici, belli, diversi l'uno dall'altro, con una loro poesia come i fiocchi di neve, no? sapete, si dice che i fiocchi di neve però la natura sono tutti diversi, alla fine la neve tu la spali o va di lato però ognuno è diverso dall'altro come il contadino che conosce le mucche per nome lui ci tiene, vabbè. No. Eh? L'RFID. Sì. Non è accettabile che le cose cadano cliccando sull'interfaccia di qua e di là senza sistemi di versionamento senza sistemi di change management non è accettabile che arrivi dell'agente che arriva lancia un incantesimo le cose vanno loro scompaiono tu con l'orba là non toccava a me più per l'amor di Dio perché si può smettere di funzionare dobbiamo chiamare uno che vuole dei soldi. Tutte queste cose non sono accettabili perché ognuno di questi punti non è codice che fa è uno che clicca uno che tocca e varianti sul tema. Punto 3 l'aspetto della misurazione della misura si misurino tutte le parti tutte le componenti di un'infrastruttura ovviamente il monitoraggio uso questo pessimo termine questo anglismo non è una cosa inventata dalla comunità DevOps qual è la novità dell'approccio? è che il monitoraggio va affrontato in modo sistemico tu devi monitorare tutto sì sistemi quelli lo fai dagli anni 70 da sempre l'RFC che definisce l'SNPV1 se non sbaglio è dell'86 dell'87 ma anche le application la rete stanno tutti insieme tutti i dati devono essere disponibili per tutti mi sarà capitato nelle aziende che grafico che traccia il load del server lo si può vedere solo da un'interfaccia che hanno i sistemisti perché è i strutturatori ma manco c'erano quel software lì è la licenza cosa pagano dei soldi per un software ma che se ne frega di quanto è il carico di un server no? niente quindi avanti l'approccio tradizionale è quello cioè sì chi si occupa di risorse costose e qua mi ricollego al ragionamento iniziale del potere disruptive delle tecnologie quali la virtualizzazione e il cloud vent'anni fa se comprare un server di un certo tipo equivaleva come investimento a pagare lo stipendio di una persona per un anno era chiaro che forse valeva la pena avere un badante che gestisse quelle risorse in modo ottimale e quindi si poteva anche porre il fatto che chi faceva quello di mestiere non faceva altro e viceversa ma se oggi una macchina virtuale ti costa 5 dollari al mese porre il fatto che quindi la tratti come trattavi il server 10 anni fa non ha tanto senso forse adesso sono proprio cose differenti 5 dollari per un'azienda cos'è? niente due chiacchiere davanti alla macchina del caffè tac presto mezz'ora e 5 dollari li hai già fumati di quel po' viceversa nel mondo dello sviluppo non è che lo sviluppatore poi si ha bisogno di tracciare quello che fa l'applicazione e non fa nulla c'è un'applicazione log4net log4j butta tutto in un file cazzo da qualche parte lo pesta quando cresce di dimensioni ma cresce di dimensioni si c'hai 100 mega di log ah dio buono vabbè allora lo ruotiamo lo tagliamo a 10 poi lo buttiamo in una buca zippalo ammassati no non va bene cioè non va bene si puoi farlo ma chiamo il sistemista e dice ma ah del mondo vero esatto proprio così punto quarto la condivisione condividere il risultato di un progetto un obiettivo le pratiche le tecniche tra team che hanno ruoli e quindi responsabilità diverse nell'azienda è un punto focale perché perché chiude il è il momento in cui il ciclo ti dà il feedback quindi ti permette di creare la cultura nella quale le persone riescono a prendere dentro le pratiche che vengono da ambienti che formalmente sono lontani e disparati ma invece nella realtà non lo sono danno valore aggiunto la catena di implicazioni in questi quattro punti secondo me è che se tu parti dall'ipotesi che veramente solo il codice definisce l'infrastruttura che ogni azione sull'infrastruttura per essere accettata debba essere automatizzata cioè trasferita in codice allora o tu l'infrastruttura la tocchi programmaticamente o non la tocchi quindi qua come nel film tu ti svegli al mattino trasformato in programmatore perché se no ecco fai l'urlo del sistemista che si sveglia programmatore perché questa è la conseguenza logica questa è la conseguenza logica che però se un'azienda vuole portarlo avanti inizia ad avere conseguenze pratiche ok quindi cosa faccio la seconda parte del talk vuole provare a darvi alcune idee che io ho meditato su quali sono le conseguenze pratiche di questa teoria ok quindi mi hanno parlato ma possiamo anche fare ciò che viene detto ciò che ho raccontato fino adesso vediamo questa è una mia opinione estremamente personale dell'idea del movimento anche perché appunto non abbiamo una bibbia e diciamo io mi do come obiettivo principale quello di riuscire a migliorare la collaborazione di aumentare la collaborazione tra programmatori operation IT e quindi poi per estensione per chi si occupa di front end di QA e quant'altro ok la cosa che spero portiate a casa è che nella mia ipotesi una parte di questa collaborazione può nascere dal fatto di iniziare ad adottare alcuni strumenti software che fino a qualche anno fa concretamente non esistevano che permettono in maniera molto più facile molto più funzionale di stabilire interrelazioni tra questi team che fino a poco tempo fa ma in molte aziende fino ad oggi sicuramente anche domani vivono in mondi estremamente separati ok quindi se vogliamo nella mia testa DevOps è un po' un'evoluzione gli aspetti dell'Agile in particolare lo vedo proprio come un'evoluzione di XP cioè ormai si dà per assodato un principio che però quando è stato detto per la prima volta ha sollevato anche qualche dubbio e critiche giustamente fondate alcune talate io personalmente poi le condivido anche quindi non sono un fanatico del test driven design assolutamente però riconosco il fatto che il software buono è un software che ha dei test ma questa cosa quando è stata introdotta era piuttosto innovativa ma anche insomma aggressiva ti obbligava a cambiare parecchio il tuo modello mentale lo successivo è che il testing non è sufficiente il software fatto bene è anche monitorato strumentato se vogliamo in senso alato per avere i log nel posto giusto dove ci sono le informazioni giuste che quindi quando il log cresce viene ruotato troncato si avverte di dovere che lì c'è un file che sta aumentando a dismisura eccetera eccetera normale c'è un directory che si chiama varlog dove si mettono i log non c'è neanche bisogno di fare della fantascienza insomma ok quindi vabbè forse si potrebbero usare anche altri acronimi buffi ma effettivamente DevOps suona meglio allora se io dico che si possono usare strumenti per fare queste cose qua e che queste cose qua sono nella mia testa l'evoluzione del testing andiamo un attimo a definirle quando noi abbiamo un sistema software sotto osservazione abbiamo una componente che è la componente del logging che si occupa di gestire gli eventi ok abbiamo una componente che chiamiamo il modello del monitoraggio che è pertinente a tutto ciò che può essere concretamente misurato sul sistema e spesso appunto una parte delle difficoltà è legata che i software esistenti molti dei software esistenti tendono a mescolare questi due concetti e la componente di alerting che vedremo è sostanzialmente un servizio ancillare di questi due perché è legato al fatto che lo stato del sistema tipicamente in seguito a qualche evento è cambiato e quindi è necessaria un'azione da parte di qualcuno che vada a ritirare su il server che è cresciato come appena accennato un tot degli strumenti che ci sono in giro e che vengono magari roba iperstabile che fa un sacco di cose penso a Tulco Menagios che hanno iniziato a svilupparlo non mi ricordo se nel 94 o nel 96 sono dei pezzi di software notevolissimi iperaffidabili però risentono del fatto che mescolano tutte queste cose insieme uno dei lati positivi del movimento DevOps è quello di aver portato alla creazione di strumenti io parlo di strumenti liberamente accessibili come software libero che permettono di costruire diciamo architetture in base al principio Unix di fare una cosa fatta bene e fare solo quella se possibile mi accascio un attimo e proseguo allora i tre punti logging, monitoring, alerting ci andiamo sopra abbastanza velocemente ma vi permettono anche di segnalarvi a questo momento anche per giù di tempo a livello di nome e di screenshot tecnologie che noi utilizziamo con soddisfazione poi se volete più dati dopo ovviamente di persona e entriamo più nel merito ok quindi logging andiamo oltre il fatto di guardare cosa c'è in Valoxyslog spesso ci sono dati di natura differente mescolati insieme e un punto sul quale vi chiedo di provare a prestare attenzione quando ho progettato e pensato a queste architetture è che il log che tratta dell'evento non è implicitamente perché tanto è comodo anche il sistema di misura perché così vi è incomodo già che ci siamo metterci anche il numerino sì entrambi i sistemi condividono un aspetto che è l'aspetto temporale ma sono cose diverse e purtroppo questa cattiva abitudine ci arriva perché se noi andiamo a vedere un esempio iperclassico log di Apache standard chi non riconosce mentre un log di Apache qua esca da questa stanza finché sono voltato questo che cos'è questo è un log e traccia un evento qual è l'evento? una certa URL è stata acceduta in un determinato momento relativa al server e quindi la data l'oraio può essere più o meno corretto però in quel posto lì hanno detto che era le 9.34 del mattino gli altri dati sono contesto dell'evento ma sono ancillari alla natura dell'evento però ci sono dati che non sono pertinenti al concetto di evento c'è un numerino 5367 in questo caso particolare quella lì è la dimension in byte della response compresi leader perché? è perché è comodo cioè il log ce l'ho già lì apri e buttalo dentro che dopo se vuoi sapere quanto è grande quella pagina là c'è già scritto già che ci metti la dimensione beh cacci dentro qualcosa altro track un 302 quindi mi è dato un redirect perfetto o no beh dipende e poi di conseguenza lo user agent eccetera eccetera e questo è un log di Apache normalissimo come immagino sappiate lo potete stendere appendendoci un po' quello che vi pare no? un mod page speed qualunque lì avrei il tempo in millisecondi no? o micro mi ricordo mai di quanto ci ha messo a renderizzare la pagina bellissimo un altro dato numerico in un log di eventi ok se non si può fare diverso meglio che un calcio però visto che adesso esistono gli strumenti per poter tenere separati questi scenari come appunto ogni buon programmatore gli dice se abbiamo oggetti classi adesso non so qual è il sistema no? di progettazione software che preferito che va più di moda da stamattina e c'è una cosa che fa due cose insieme fate due pezzi distinti ok? cos'è questo umorismo nei confronti di bassa lega nei confronti del programmatore? un'infrastruttura di logging a alcuni componenti o perlomeno io la progetto così a un'infrastruttura di routing pensatela come ai tubi agli snodi che consentono ai dati di passare dal punto di collezione al punto di storing dove i dati vengono effettivamente tenuti gli strumenti classici sono questi le varie varianti su syslog però per esempio se utilizzate un tool un po' più moderno come grey log questo per fare da parte di storing e anche indicizzazione si appoggia ad elastic search cosa vi permette di avere? vi permette di avere poi come componenti successivi per l'aggregazione la visualizzazione e l'analisi dei contenuti delle interfacce e penso più a Kibana che a grey log tra l'altro tra un po' dovrebbero rilasciare la 4 che sono decisamente più fruibili più usabili più facili di un grep o variante sul tema su un file di log anche perché quando hai un po' di file di log nello stesso sistema anche anche ma quando tu vuoi raccogliere mettere insieme e confrontare informazioni che stanno nei file di log di macchine diverse potenzialmente ne hai sempre di più e le hai anche distribuite sull'infrastruttura tu inizi a fare delle manovre copi apri sposti facciamo una direttore di lavoro quindi quell'analisi che una volta con un grep ti passava anche velocemente anche stamattina adesso mi ricordo chi che facendo un po' di test con dei flat file grep andava come un terreno e grazie al cazzo cioè volete vedere il contrario cioè stiamo parlando di un vabbè Sysok ti permette di logare lottamente infatti tutta la parte di routing di intubamento lui lo fa da solo senza problemi lo fai sul TCP UDP porta 514 un po' come ti pare infatti non è male ci sono cose che ti permettono di fare qualche operazione in più tipo i vari logstash che è un progetto di Mozilla Foundation se non ricordo male ti permettono di fare on place un po' di normalizzazione per cui il log di Apache che qua da qualche parte boh qua non c'è magari ti mette il nome del processo per cui da una parte hai Apache 2 però se hai una redette c'è scritto HTTPD e però se un altro tipo di web server ancora c'è scritto un altro nomino tu li normalizzi e decidi che tutti i log dei web server si chiamano in un modo in modo tale che poi quando faccio il filtraggio non mi devo stare io a porre il problema di ricordarmi che la stessa informazione se la guardo nei log del web server di tipo A devo fare una query di un certo tipo se la cerco sui log del web server di tipo B devo fare una query di un secondo tipo momento un attimo il passo se non lo prendiamo più appunto Syslog e altri strumenti storici fanno cose di questo tipo però su scenari che iniziano a diventare un po' complicati un po' complicato vuol dire già anche uscire da una LAN da una rete controllata mostrano i loro limiti perché non sono nati per essere completamente distribuiti il conto è essere in rete una rete più o meno locale magari ruotata ma controllata un conto è essere ovunque chiamata di Greylog monitoraggio cos'è una misura? una misura è un valore numerico con un nome e un istante temporale che corrisponde quando è stata fatta la misura nient'altro una tripla semplicissima punto e basta una successione di misure è una serie temporale di valori numerici e poi gli diamo un tag gli diamo un nome e decidiamo che questo nome lo chiamiamo magari secondo una convenzione così è più facile poi dopo farlo vedere nel nostro sistema di visualizzazione l'architettura del sistema di misure secondo me ha gli stessi componenti del sistema di logging qua ci sono cose alcune molto vecchie molto consolidate come Collegd eccetera e altri programmi invece che sono molto più recenti StatsD credo che abbia 4-5 anni di vita la suite di che è stato on a graphite non ne ha molti di più senso deve essere un progetto di 3-4 anni fa questo è uscito l'anno scorso questo anche però non andava benissimo adesso l'hanno migliorato e di nuovo un sistema di alerting gancillare che quando le misure hanno un andamento che secondo determinati principi non è corrispondente più alla proprietà che noi vogliamo che abbia il nostro sistema manda un allarme a qualcuno perché intervenga i sistemi classici hanno appendici non so se avete molti sistemi basati su SNMP o simili oppure Moonin un po' più usati in ambito applicativo che ti danno certe metriche per la visualizzazione il punto focale di avere sistemi di monitoraggio moderni è l'aspetto visuale le informazioni che vengono raccolte siano e lo ripeto costo di sembrare noioso informazioni di sistema informazioni applicative informazioni di alta natura devono essere tutte se si riesce chiaramente poi ci possono essere dei limiti strutturali accessibili e visualizzabili da chi ha interesse a evolvere mantenere gestire accedere quel sistema visualizzazione vuol dire che quei dati devono essere accessibili ma anche espliciti un grafico è una componente visuale una cosa che sulla pagina grazie del tuo della tua dashboard corrisponde a un disegnino a un disegnino complicato non deve essere qualcosa che beh ci metti un attimo c'è uno script da qualche parte beh comunque lanci grep fatto così e poi dopo ti arrangi no no non è immediato è implicito è tutto lì il punto informazione implicita o informazione esplicita informazione esplicita vuol dire fatemi vedere l'equivalente dell'elettrocardiogramma della vostra applicazione ora questa è la pagina mi loggo eccoli allora ci credo dico beh sì no c'è gli ho dunque nel log c'è tutto dopo te lo apro passo dentro Excel faccio un giro una pioretta vabbè c'è gli hai ma non sono espliciti sono impliciti è tutto lì il trucco questo gap tra l'implicito e l'esplicito se hai un'infrastruttura semplice e mi viene a dire localizzata quando hai un casino te lo puoi permettere quando l'infrastruttura è distribuita i numeri crescono tutti questi gap si sommano e auguri ok di grafici vari questo è un grafico vabbè imperscrutabile che a me dà molta soddisfazione perché mostra il comportamento di un cluster IAC secondo di quello che fa importa esporta cose e sotto stanno i load di svariate macchine in modo che anche proprio così da un punto di vista meramente di analisi sentimenti che bisogna guardare su un quadro a strato ti puoi fare delle idee se il tuo sistema sta funzionando in maniera adeguata o meno ti chiedi perché c'è stata sta spike della madonna senza che apparentemente capitasse niente mentre invece vedi che per altre cose c'è stata una conseguenza graduale tra i due tipi di grafici e questo tipo di informazione noi in biode che le utilizziamo anche moltissimo ormai durante lo sviluppo cioè il codice opportunamente strumentato man mano che lo sviluppi comunque va perché sta facendo i suoi test o funziona sui lasci che parzialmente svolgono cose e tu ti abitui a guardare l'elettrocardiogramma sotto sforzo del tuo atleta quando fai una modifica e vedi un extra sistole ogni minuto dici cazzo ma ti avevamo committato ieri che sta morendo e lo becchi subito e tra l'altro becchi mal di qualcosa che passa tutti i test perché non stavi testando quel comportamento oppure certe cose magari sono relative a aspetti di performance che anche proprio come natura del test da fare sul codice sono non banali sono più facili da guardare qualche impazzio a scrivere 6.000 test secondo me uno s'arrangia velocissima erting erting è quella cosa che squilla nella notte questo ho voluto mettere un alert bello che dice no 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 sereno sereno recovery non ti preoccupare node 22 è tornato su e teplicamente quel sottocomponente degli altri due che genera messaggi ti dice che una catena di eventi o una certa proprietà del sistema mantenuta o meno determina uno stato e questo messaggio deve venire consegnato alle persone interessate quindi ci sono dei sottocomponenti che non abbiamo negli altri due architetture che sono il sistema che genera gli alarmi che può essere anche molto complicato perché puoi fare un'analisi statistica su più metriche contemporaneamente per vedere ci sono delle deviazioni quindi anche la matematica se vogliamo che sta dietro a certi tipi di alert può essere complicata se vogliamo a volontà c'è il sottocomponente che fisicamente crea il messaggio capire chi deve essere informato per questa cosa in alcuni contesti ci sono integrazioni anche con apparati vedevo l'altro giorno un plugin sviluppato da quelli di adesso non mi ricordo più forse Netflix ma non vorrei dire una cazzata che si integrano con quegli affarini che ti misurano la qualità del sonno per capire se tu sei un tecnico che sta dormendo e quindi quell'alarme non ti va mandato è un po' estremo però mandare un'alarme a uno che dorme è comunque una cosa inutile ok? un po' perché probabilmente ha diritto di dormire un po' perché gli rompiamo i marroni un po' perché c'è magari qualcun altro sveglio che è quello che deve intervenire che ti svegliano che appena ti arriva l'alarme tu vieni elettrizzato non lo so non li ho mai avuti e sono terrorizzato da queste evoluzioni della tecnologia arrivo alla fine anche qua un po' di tool utopi in questo mondo si è ancora molto legati ai molloc storici che insomma fanno bene il loro lavoro la parte di messaggistica può essere la più varia appunto la telefonata l'email le sms la scossa elettrica come suggerisce il buon brando eccetera 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 con meccanismi poi di routing che essenzialmente sono svolti da parti diverse del software qua non c'è una suddivisione se vogliamo funzionale più raffinata come poteva esserci nelle architetture precedenti vabbè qua la taglio velocissima attenzione vedo un rettato ma è un server perfettamente guarda che bello guarda come sta andando ok tutto da posto tutto da posto Massimo non ti preoccupare qua ormai ve l'ho detto il limite di certi strumenti ben fatti iperrodati è che tendono a fare tante cose insieme questa è una schermatina di identità che si chiama check make up dove per quanto detto prima vedete che c'è insieme un grafico quindi una misura dei dati di stato che corrispondono quindi propriamente a un sistema di alerting e operazioni ibride su tutte e due queste cose qua arrivo alla conclusione e poi così magari rimano un pari di minuti per delle domande perché dico che queste cose qua permettono di andare nella direzione per quanto appunto un po' assurdo di raggiungere un obiettivo che è un obiettivo culturale cioè quello di migliorare la collaborazione tra team e in questo caso development e operation perché appunto fare logging fare monitoring fare alerting è non solo utile ma così come oggi non sarebbe più accettabile avere del software che non è testato tra 5-10 anni non so quanto forse due mesi 80 giorni dice Gartner non dovrebbe essere più accettabile avere software che non è logato monitorato e strumentato in modo opportuno se non lo dovete fare ovviamente non lo fate ma nessuno vi obbliga appunto a scrivere i test o a programmare con i piedi chiaramente questi componenti hanno un punto nodale sono componenti cross funzionali quindi sono proprio i punti di contatto dove tu metti insieme i dati che pertengono aree differenti e quindi sono automaticamente noi vogliamo un escamotage per forzare anche obbligare permettere a persone dei team diversi di condividere le informazioni di integrazioni di dati che stanno in posti distinti è un abilitante e secondo me appunto non farlo rende certe operazioni analisi di log che stanno distribuiti in giro per il mondo debugging di situazioni complicate o impossibile o veramente molto costoso soprattutto ci sono strumenti che vengono dal mondo del software libero che vi permettono di costruire soluzioni di questo genere senza diventare matti senza dover spendere miliardi in licenze o in men che meno soluzioni monolitiche fate cioè studiate guardate i blog post le presentazioni sperimentate quello che fanno le aziende le chiamate high performance le aziende appunto che vogliono fare 10 deploy in un giorno che devono gestire 1000 server ma non perché voi vogliate fare 10 deploy al giorno magari sì magari no non perché voi oggi abbiate 1000 server poi magari tra 5 anni vi serviranno anche a voi non lo so le loro tecniche sono applicabili anche nel contesto piccolo e vi permetteranno di evolvere l'infrastruttura e di permettere ai team di lavorare meglio come un team singolo grazie della partecipazione vediamo se si fa qualcosa l'anno che viene controllate il nostro blog o su twitter per maggiori informazioni se qualcuno ha una domanda o due direi che 5 minuti ci sono poi vedo già Brando che parte come una lonza io mi accascio un attimo domanda stupida ma forse no non è che si rischia di passare più tempo a mantenere l'infrastruttura di log che non l'infrastruttura che devi loggare cioè tutti questi tool hanno l'aria di avere un costo di comunque manutenzione anche eccetera eccetera sì è vero ed è e secondo me si applicano gli stessi ragionamenti che applichi se io ti ribalto la domanda ti dico ma tutti questi unit test è che se la caccia via è meglio così non è mai un po' verde un po' rossa l'hai cacciata via è un costo quindi l'esperienza anche gli errori che uno fa sono volti a capire qual è quel limite per il quale si investo nuove energie nel costruire nel badare queste infrastrutture ma perché mi dà valore aggiunto e non costruisco magari un'istrumentazione che non ha neanche il Boeing che a quel punto mi porta via più tempo dei casi in cui poi effettivamente me lo fa risparmiare però per me è lo stesso posto mentale cioè è un qualcosa di più che fatto nel modo giusto quando ne hai bisogno poi ti ripaga del tempo che ci hai investito quindi si si bisogna avere occhio per farselo il rischio potenzialmente è lo stesso per me è la stessa cosa cioè per me è una misura è essenzialmente un test che viene fatto su base temporanea poi ci può essere anche un corrispettivo nel codice che ti dice che quella chiamata di funzione di metodo così deve ritornare in 300 millisecondi allora lo becchi anche con un test ma vedere anche cosa fare nel mondo reale quando ormai i test li hai già passati può darti delle informazioni ulteriori quindi sì molte cose sono un test continuo nel tempo non le vedo molto distanti c'è lui forse la mia non è una domanda volevo un po' condividere una cosa interessante che ho visto ieri anche per rispondere alla sua domanda dopo quello che ho visto ieri la risposta è no cioè non si rischia di come dire overtestare e lo dimostrava ieri il capo dell'operation di Crux Crux è una società che non ho capito bene che fate se è sincero però hanno una mole di dati che è circa due volte quella di facebook giusto per dare di traffico giornaliero lui faceva vedere come il sistema che hanno tirato su i monitoring con molti dei tool che hai citato è un tool recente giusto? perché mi sembra di aver visto anche io guarda l'hanno pubblicato due giorni fa si chiama Joss non mi ricordo come però se cerchi ho capito ho capito bellissimo se è quello che dico io perché spiega tutti i vari tool come si incassano come usano loro c'è stata una domanda ma quanto tempo ci vuole per tirarsi un sistema di monitoring del genere lui ha detto tre persone per due settimane e tutto più o meno è chiaro che erano tre persone diciamo diciamo grave però diciamo che un punto secondo me importante è che tu dopo devi badare al fatto quello sia a volte un costo che lì per lì non hai realizzato che ti portavi sulla gobba tu dopo dipendi da questa infrastruttura quindi c'è l'assurdo che la ridondanza la robustezza la resilience per usare un termine inglese dell'infrastruttura che monitorizza il tuo software paradossalmente deve essere superiore a quella del tuo software se tu hai una failure nella tua infrastruttura e quella non cattura una failure del tuo software sono buono quindi tu devi mettere grosso sforzo che a volte magari i sottostimati ti vengono a dire anche ma cazzo mi conviene a me avere tutta sta roba iperduplicata ridondata che non lo faccio neanche per il mio software e secondo me la risposta è fatta nel modo opportuno anche sì proprio perché la fai in un contesto standard che non dipende dalle paturie della tua applicazione proprio per permetterti di avere un modo più semplice una rete in più per tutta la tua parte applicativa però è abbastanza vero quello che dici e il rischio in parte che sollevava prima lui vai 1 e 2 poi magari chiudiamo e poi chiudiamo di là chiacchierando una domanda rapida più una curiosità quando hai fatto vedere l'elenco dei tool per il logging ho visto suggerivi elasticsearch e poi tra parentesi no io non lo suggerisco affatto no vabbè allora no grey log te l'appoggia lì e te lo tieni va bene qualcuno che ti ha fatto le slide però c'ha scritto elasticsearch tra parentesi è un componente di grey log with mongodb cosa intendi with mongodb che se tu usi l'installazione base di default dopo lui usa fisicamente mongo per i token sul quale ha fatto l'indicizzazione che usi poi nell'interfaccia web si si esatto quindi quindi è fatto così insomma tu devi sapere cioè l'ho messo perché se vieni da un mondo nel quale i tuoi log ti legisci syslog syslog è un pacchetto è un binario c'è qualche file di configurazione un altro tool che per fare qualcosa in più ti appoggi un front-ending rubio rails che usa elastic che c'ha dipendenze da un pezzo di mondo java della madonna e ti appoggia anche di soppiato mongo db ecco sappilo prima perché magari diciamo lo usavo però non sapevo si appoggiava a mongo db noi lo usiamo normalmente la stixerge ma no per grey log per grey log ah per grey log ok mi mancava questo pezzo ecco perché ignoravo l'esistenza di steve che ho fatto è scappato grazie prego mando no no era solo relativo al fatto di se usate grey log 2 che fa tutte ste cose occhio che vi ritrovate anche sti oggetti bravo adesso e la è usato anche ah lo stessi si 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 no 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 è un altro modo di fare e dopo usi kibana come font si chi ti ha ancora una domanda allora si chiede secondo te permette di scrivere del software più consapevole di quello che poi si va a fare sul server nel senso che magari una volta dato che poi il sistemista gestiva il server diceva vabbè affare del sistemista adesso con una soluzione un po' ibrida sia un po' più consapevole di quello che si va ovviamente si il punto è proprio che la fase tanto poi c'è il sistemista non ha senso capito è proprio questo il punto del ragionamento cioè sono magari suddivisioni che potevano avere senso fino a un po' di tempo fa perché c'era tutta una questione legata a una gestione ottimale di risorse molto costose che adesso questo shift economico per cui non sono più risorse costose ma ci sono le risorse che costano meno in assoluto perché con quello con cui paghi un virtuale in offerta paghi so tre minuti di un developer e allora di cosa stiamo parlando già il fatto che te lo chiede tu gli dica di noi che hai fatto i soldi di quello che ti stava chiedendo fallo poi se c'hai delle patrune ci metti i dati finti fai un progetto uno spy con qualcosa per riempirlo di anagrafiche di topolinea e così non stiamo dando in giro i dati di chissà chi ok quindi vuole superare un po' questa suddivisione perché secondo me non ha senso non ha più senso ovviamente superare questa divisione è un aspetto culturale che col fatto di utilizzare dei tool centra poco però magari i tool ti permettono di iniziare a fare questo lavoro di dimescolamento tempo per un coffee break grazie mille grazie mille a Michele Michele su Twitter lo trovate a fatica anche io è gaunilone se non sbaglio fa parte un po' più tutto del mimetismo anche il talk era di un'altra persona